La musica più bella delle orchestre italiane di musica melodica e liscio suonano su ETV Perché da noi la musica è nel cuore Buongiorno ETV, ben ritrovati La rassegna stampa della nostra emittente Canale 12, contemporanea streaming sul nostro sito etvmarche.it La nostra pagina Facebook, la nostra app di ETV La mattinata e la giornata all'insegna delle notizie Con, dunque, quello che ci riportano i quotidiani Versione digitale, Corriere Adriatico, edizione di Ancona Partiamo da qui con le principali news e i titoli nella prima pagina Ancona chiama l'Europa, scrive il Corriere Voli diretti per Parigi e Londra Una chance per promuovere il turismo Renzetti avverte ora più collegamenti Confronto fra i tre candidati a sindaco Croceristi, brand del Conero e mobilità sostenibile Le ricette vincenti In taglio centrale L'Ancona in A Sarebbe bello Intervista al CT azzurro Roberto Mancini Che sogna, dunque, il ritorno dell'Ancona Ma anche dell'Ascoli nella massima serie Non così vicino nel tempo Ma chiaramente sognare non costa nulla e perché no Sarebbe l'ottimo biglietto da visita per lo sport della regione In fuga da Perugia per sfuggire alle botte Fermato il marito La notizia di cronaca che arriva dal capoluogo Altra notizia Fa avance Homosex E gli punta un'arma Anziano A processo La vittima delle avance Un ragazzo Ganese Il poliziotto pistolero Ora la ricostruzione in 3D Per la sparatoria Il caso di Giordano Viene falciata da un'auto In coma Una tredicenne Sciocca Barbara Era andata a studiare da un'amica La ragazzina è ricoverata In gravissime condizioni Un impatto tremendo Per la ragazzina di tredici anni Che ha subito perso conoscenza Si trova in gravissime condizioni Al Salesi E in coma farmacologico Il drammatico incidente È avvenuto ieri alle 18 A Barbara Di piede Gelato super La cremeria Pincini di Ancona Al top In Italia Di spalla Abbiamo parlato in settimana Delle tasse locali Ebbene la regione Non rottama le cartelle La regione infatti Non applicherà Lo stralcio automatico Dei debiti Sulle tasse locali Accumulati dai marchigiani Dal primo gennaio del 2000 Al 31 dicembre del 2015 Palazzo Raffaello Ho dunque deciso Di non avvalersi Della misura Prevista dal governo Meloni Nella legge di bilancio 2023 Preferendo la definizione Agevolata Dei carichi Una sorta di rateizzazione Ecco qui All'interno Assessore Brandoni Dice Più giusta La rateizzazione Dei carichi Da pagare Il periodo Di riferimento Delle tasse locali Dal primo gennaio del 2000 Al 31 dicembre del 2015 Cartelle per debiti tributari Fino a 1000 euro Il 31 gennaio Era la data ultima Per gli enti locali Per decidere Se applicarlo C'è lo stralcio automatico Quindi il non pagamento Delle sanzioni Degli interessi Dei singoli debiti Oppure la definizione Agevolata Dei carichi Ed è questa La strada percorsa Dalla regione marchi Ossia pagamento Capitale Rimborso delle spese Per le procedure esecutive E notificazione Delle cartelle Di pagamento Due rate nel 2023 Quattro rate trimestrali Dal 2024 In poi Quindi si procederà Con una sorta Di rateizzazione Le cartelle Dal 2000 Al 2015 Valgono circa 20 milioni Di euro Per le casse Della regione Edizione di Ascoli San Benedetto Quasi mille Cantieri da aprire Fra super bonus E ricostruzione Post terremoto Si teme la paralisi Del traffico Specie in centro Si prevede Un'altra valanga Di domande Con la proroga Al 16 di febbraio Per presentare Progetti Di spalla Le tasse locali In taglio centrale Invece Il tema Difesa della costa 40 milioni Per scogliere 10 opere Anti erosione Da Pesaro Alla Sentina La cronaca Il tribunale Ferma 140 nomine Della sanità picena Iscritti alle superiori L'istituto agrario Attrae anche Gli abruzzesi Il tema Appunto Quello della scelta Delle scuole E superiori A San Benedetto Al mercato ittico Va in tilt Il monitor Basta con I disagi Lamentano I pescatori Sempre a San Benedetto Siamo di piede La sentenza Dei bagni Medusa Il risarcimento E milionario Cincolà E Tulli Non avrebbero rispettato La prelazione Della società Della Scaramucci Dorano Così risarcire 1 milione 350 milioni A Maria Serena Scaramucci L'affittuaria Di bagni Medusa Che ha vinto La causa In tribunale Gli imprenditori Cincolà E Tulli Infatti Per la giudice Non avrebbero rispettato Il diritto di prelazione E non avrebbero realizzato I lavori Necessari Nello chalet E poi il completamento Dell'intervista Al CT Mancini Vorrei Ascoli E Ancona In Serie A Dice Il CT Della nazionale Campione D'Europa Parliamo per un attimo Di scogliere Di difesa Della costa Dei 40 milioni A disposizione Da parte Della regione Marche Un nuovo stralcio Dunque Del piano Finanziato Da Palazzo Raffaello Con fondi FESR E PNRR 10 interventi Di protezione Del litorale Dall'erosione Nuove scogliere E altre opere Per arginare Gli effetti Delle mareggiate I tempi Bandi di gara Entro Il 31 maggio Lavori A partire Dal 15 ottobre 40 milioni Dunque Da Pesaro Alla Sentina Per difendere La costa Nel dettaglio I 10 interventi Che riguardano A Pesaro Il completamento Della scogliera A Castel di Mezzo A Fano Difesa della costa Sassonia Sud Dal Metauro Al Porto Sempre a Fano Difesa costiera A Sud Della foce Del Metauro Porto Recanati Realizzazione Di scogliere Emerse A Scossicci A Porto Potenza I Civita Nova Marche Difesa del Paraggio A Civita Nova Marche Porto Sant'Elpidio Ripascimento E sovrasedimentazione Fluviale E realizzazione Di scogliere Emerse A Porto Sant'Elpidio Affermo La trasformazione Di 6 scogliere Sommersi In Emerse A Marina Palmenze A Pedaso Riconfigurazione Delle opere Di difesa Del litorale Nord A Pedaso Campofilone La realizzazione Delle scogliere Emerse Sul litorale Sud E infine A San Benedetto Del Tronto Realizzazione Delle scogliere Sommerse Del litorale Sentina Con recupero E protezione Della riserva Sentina Gli interventi Sono subito Cantierabili Dice l'assessore Alla difesa Della costa Stefano Aguzzi A Montemarciano I lavori partiranno Invece Già da settembre Il sindaco Bartozzi Traccia la roadmap Del maxiprogetto Da 12 milioni Di euro Per Vallugola Che è Una parte Della costa Di Gabicce Oltre un milione Arriva dai privati Il sindaco Pascuzzi Dice È un asset Importante Del nostro Turismo A Civitanova E nel Fermanno Gli interventi Già realizzati Le risorse Le risorse Per l'Anconetano Sono previste Nei piani Di intervento Precedenti Ecco perché In questa fase In questi ulteriori E ultimi Dieci interventi Non c'è quasi nulla Che riguarda Le coste In provincia Di Ancona Perché? Perché le risorse Sono state già Stanziate In altri piani Edizione di fermo Del Corriere Adriatico Murri Spiraglio Dalle assunzioni L'azienda sanitaria Territoriale in campo Per 12 dirigenti medici Via al confronto Anche su tecnici Operatori Sociosanitari E infermieri Donate le corne Di una 71enne Atto d'amore Della famiglia L'età E le neoplasie Non frenano Gli espianti E questo Un grande dono Che chi purtroppo Ci lascia Lascia però A beneficio Di chi ne ha bisogno E sono appunto Gli espianti Anche qui Taglio centrale I cantieri sulle spiagge 14 milioni Per le scogliere Solo nella costa Del Fermano Di spalla Tasse locali La regione Non rottama Le cartelle La cronaca Dal Fermano Con le iscrizioni A scuola In questo caso Sono gli istituti Tecnici Che reggono la sfida A fronte Dei licei Porto San Giorgio Potature Ora tocca Via le cavallotti Presto però Altri fondi A Porto San Tepidio La politica E il rebus Sui candidati La galassia civica A caccia Di sostegni In taglio basso Giovane Ucciso a coltellate L'omicida Non è l'imputato Trovato morto Fra i campi Via al processo In assise Illegale dell'albanese Besmir Ci ha soltanto parlato Siamo a Porto San Tepidio E si è aperto ieri In corte d'assise A macerata Il processo per l'omicidio Di Moita Radu Il 31enne Di origini romene Trovato cadavere In campagna Nel 2020 Imputato Toja Besmir Un 34enne Albanese Lui è in Albania Il suo legale Dice che non c'entra Nulla Con il delitto La cronaca Di piede Con un Apple Watch Con truffa Un quarantenne Che risiede In provincia Di Fermo È stato Smascherato Edizione di Macerata Antastrade Digitale Per la ricerca Il 2022 L'anno nero Per le imprese Nel Maceratese In affanno Il commercio E l'agricoltura Con gli artigiani Che chiedono Infrastrutture E web Più veloce Per gli investimenti Sono queste E sarebbero queste Le priorità In provincia I fondi Per i primi lavori A Scossicci 40 milioni Per la costa Il titolo Del taglio centrale Di spalla Tasse locali E la regione Che non rottama Le cartelle A macerata L'assessore Iommi Per l'ex Mestica Sì Al residenziale Quindi Una riqualificazione Dell'ex Mestica A Tolentino Il villaggio Dei container Si procede Con i traslochi Chiusa pure L'area 2 Crescono I residenti A Civitanova Sono però Poche le nascite E sono scesi Anche gli stranieri Quindi il cambiamento Demografico Nella seconda città Più Con il numero Più alto Di abitanti Della provincia Esame di guida Con blef Un pakistano Nei guai Modem Cellulare Telecamera La prova teorica Controllato dai carabinieri Ora sarà denunciato Erano nascosti Modem Cavi Telefono Telecamera Sotto i vestiti Mentre va a fare Esame di teoria Per prendere La patente di guida Nei guai Finition pakistano Si tratta dell'ennesima Ma entro il 2024 Non tutta l'operazione Non tutta l'operazione Sarà conclusa Il cantiere Partirà Dall'interno Dell'edificio Taglio centrale Con le opere Sulle scogliere Di spalla La decisione Della regione In provincia Oggi incontro In regione Con l'assessore Aguzzi Amarotta Smantellata La base Per spacciare E coca Cinque sono Gli arresti La questione Della traviata Transgender In cassa All'ok Degli studenti Ipnotica E moderna Anteprima Al teatro Della fortuna Di Fano Un vero successo Con dieci minuti Di applausi E' andata in scena Solo al teatro Della fortuna La versione integrale Della traviata Proposta in anteprima Domani alle 20.30 Per il pubblico Ma appunto In anteprima Per gli studenti Degli istituti Scolastici Marchigiani Un teatro Gremito In ogni ordine Di posti Per una sorta Di esclusiva Visto che Fermo e Ascoli Avevano detto Di no Cento anni Per la musica Arabita Mostra e carro Sempre a Fano Le celebrazioni Appunto Dei cento anni Mi sposterei Per un attimo All'interno A pagina 6 Per trattare Il tema Della stazione Da capitale Della cultura Con cui ha aperto Edizione di Pesaro Corsa per il Restyling Il via a marzo Primo intervento All'interno Dell'edificio In questa fase Non saranno Tagliati I parcheggi Si procederà Per step Il primo Sarà La riqualificazione L'ampliamento Dell'edificio Dove ha sede La biglietteria Miglioramento sismico Efficientamento Energetico Per biglietteria Edicola E sala Di attesa Miglioramento Dell'accessibilità Salita E discesa Ai binari Rifacimento E manutenzione Di tutti i sottopassi E il piano superiore Oggi inutilizzato Sarà a destinazione Ricettiva All'esterno E prevista La riorganizzazione Della sosta Rapida e veloce Con disco orario Nel piazzale Di fronte all'accesso Nuovo spazio Adibito ai taxi Parcheggia A pagamento Per sosta prolungata Alle spalle Della stazione Fra il Miralfiore E porta E porta Cappuccina Queste le edizioni Digitale Del Corriere Adriatico Ma ora andiamo Sul resto del Carlino Per completare La rassegna stampa Ripartiamo Dalla prima pagina Dell'edizione Di Ancona La foto notizia Con il calcio Tutti pazzi Per il cigno Il gol capolavoro Di Melchiorri Come quello Di Van Basten L'Ancona sogna Con il suo nuovo Attaccante Due gol in quattro giorni Alla Vispesaro E quello Che ha portato Tre punti Nelle tasche Biancorosse A Montevarchi Intanto domani La super sfida Al Del Conero Contro la capolista Ovvero la reggiana In taglio alto La cronaca Il processo Violentato in auto Sotto la minaccia Di una pistola Carica La vittima Un ragazzo ganese Dopo il no Della regione Ora sul tema Delle pietre d'inciampo Il comune pronto Ad andare Per conto proprio E fin dal prossimo anno Ad installarle Davanti alle case Di tutti appunto Gli ebrei Che si ricorderanno E si omaggeranno Con le famose Pietre d'inciampo Giovani Spacciano vicino a scuola Blizza dei carabinieri Fuori dall'itis Di torrette Scatta il fuggifuggi Non si esclude Che siano anche Degli studenti La cronaca Di spalla Villa Musone Incendio Distrugge un insegna Si sospetta il dolo E i cittadini Della frazione di Loreto Sono preoccupati A Iesi Il grande polo Amazon Arrivano le ruspe Si prepara La base Per cominciare I lavori Senigallia Sul lungomare Come a Miami Case di lusso Nel resort Di piede Le interviste Del resto del carlino A Morandi E l'anno che verrà Porto Ecco che cosa fare Detta insomma I tempi O come dire L'agenda degli interventi Morandi Per quello che riguarda Il porto E lo sviluppo Del porto di Ancona Concorso beffa I nodi della sanità Gli infermieri in coro Fateci lavorare La graduatoria Degli idonei È già in scadenza E intanto Spuntano altre grane Per il personale Si lamentano Quegli infermieri Che erano entrati Nella graduatoria Il cui termine è stato anticipato Fra l'altro sappiamo bene Quanto ci sarebbe bisogno Di infermieri Nella nostra sanità La rabbia dei pescatori E la fotonotizia Che apre L'edizione di Ascoli Ancora disagia All'asta del pesce A San Benedetto Una delegazione Va in comune In taglio alto L'iscrizione a scuola Il liceo classico Non crolla Ma è boom Per lo scientifico Le scelte Dei ragazzi Nel Piceno Dal comune Incentivi a nuove attività Al via la mappatura In città Ad Ascoli Niente tasse per tre anni Per chi apre negozi Mancanti Nelle varie zone Caro Energia Siamo di spalla Altri aiuti Per pagare le bollette Ecco chi può aderire E a San Benedetto Il tema Sciale Medusa Il cambio di gestione Costa Un maxi Risarcimento L'allarme Con altri furti in casa Un colpo a segno E due Quelli tentati Ladri Nazione appoggio di Bretta E Campolungo Bottino Da 4.000 euro Edizione di fermo La fotonotizia Arrivano i rinforzi Pubblicato l'avviso Per assumere 12 medici Intanto il commissario Straordinario Grinta Ha anche richiesto 11 tecnici di laboratorio 2 di radiologia 10 OS E altrettanti infermieri In taglio alto A Montegranaro Brizza antiterrorismo Ubaldi Pronti a fornire Le immagini Delle telecamere Caporalato nei campi Clan a processo Banda di pakistani Sfruttava Con nazionali Disoccupati O clandestini Nella raccolta Di frutta E verdura E poi In casa i soldi Ma non ne spedisce La merce E denunciato Un quarantenne Per truffa Che vendeva Un apple watch A una vittima Sfortunata Ed inconsapevole Di sasso ferrato Di spalla Porto San Giorgio La politica Il sindaco Vesprini Priorità Alla riqualificazione Delle aree Branella Ed ex Cossiri A Porto Sant'Elpidio Verso le elezioni Petrini Gioca in anticipo Grillini In stallo Il tavolo di lavoro Di piede Combattiamo L'abbandono Della scuola Enti Ed istituti superiori Fanno squadra Aiutiamo i ragazzi Anche A trovare lavoro E sempre È stata questa La grande sfida Tra il mondo Della scuola Quindi della formazione E il mondo Invece del lavoro Trovare il punto D'incontro Perché le esigenze Del mondo Del lavoro Combacino Con le capacità Formative E degli istituti Superiori Siamo sull'edizione Di macerata SOS Dipendenze Tra i giovani Dai social Al porno Segnalazioni in serie Allo sportello Famiglia Al centro In taglio alto Invece stipendi Fermi a novembre Proclamato Lo stato di agitazione Alla mondial suole Group La protesta Di 160 Operai Della ditta Di Porto Recanati Neanche un euro Alle vittime Di Traini Cinque anni fa Il raid Razzista Gli avvocati Degli immigrati Feriti Nessun risarcimento Presto Le cause Civili Poi dentro La crisi L'allarme Della CNA Sono sparite 2000 imprese In un anno E sul pianeta La scuola Il 60% Il 60% Dei ragazzi Ha scelto I licei Gli istituti Tecnici Almeno nel maceratese Sono al minimo Storico Dalla parte opposta Della prima pagina Graduatori accorciati Il concorso Beffa per gli infermieri Un'ingiustizia Fateci lavorare Abitazioni per Stranieri Topaie Trasformate In case Regolari Un geometra Finisce ora Nei guai E poi L'inchiesta Sui clandestini L'operazione Wet shoes Dello scorso martedì Con il titolare Del CAF Coinvolto Nelle indagini Contestate tre pratiche Su oltre 1500 E la sua Difesa Di piede Due notizie Da Civitanova Bollette shock Per il metano File Negli uffici Della Estra E poi Il controllo demografico Della popolazione Civitanovese Una popolazione In crescita Ma crollano Le nascite Entriamo all'interno Del resto Del carlino Di macerata Con l'SOS Dipendenze Tra i giovani Per leggere E per analizzare Questo tema Dai social Al porno SOS Dipendenze Tra i giovani Abbiamo detto Essere il titolo Di apertura Diverse le segnalazioni Allo sportello Famiglia Al centro Di Piazza Mazzini La psicologa Federica Miluc Della cooperativa Il Faro Che è una delle operatrici E dello sportello Garantiamo Un supporto Gratuito La difficoltà Nell'affrontare La quotidianità Comporta spesso Ansi e fragilità Emotiva Spiega Le situazioni Sottovalutate Possono sfociare In quadri Più seri Di depressione Le possibili Conseguenze E poi Dall'altra parte Della pagina Altri racconti Di psicologhe Insomma Che approfondiscono Quelle che sono Le dipendenze O le fragilità Dei giovani Videogiochi E digitale Abusi Tra i ragazzini In aumento Anche Il gioco Di azzardo E poi Anziolitici Nelle bottiglie Di sprite A 17 anni Cominciano Con la cocaina Infine Disorientati E sempre più soli I giovani Non vedono Un futuro La consulente Stefania Carluccio Sono agevolati Dalla possibilità Di accedere A molte informazioni Manca però L'appartenenza Cerco di insegnare loro La comunicazione Non violenta E quindi Un nuovo linguaggio E sono delle criticità Vere e proprie Sono segnali Di fragilità Che probabilmente Si sono acuite Anche con la pandemia E con il periodo Del lockdown Ma che chiaramente Vanno affrontate Perché poi Sono fonte Di preoccupazione Oltre che Fonte di un disagio Giovanile Che spesso Sfocia Anche in conseguenze Più drammatiche Non solo Per se stessi Ma anche per La collettività Chiudiamo Con la fotonotizia E con La prima pagina Dell'edizione di Pesaro Io l'ultimo ebreo La storia di Angelo Montebarocci L'unico rappresentante Di una comunità Quasi estinta Vivo per miracolo Dice Per salvarci dalla Shoah Scappammo di notte Ci nascosero in un mulino A Cartoceto Ma nessuno Ci tradì In taglio alto Il centro sportivo Della Vissa Villa Fastigi Viaggio nel cantiere Tutto fermo No Aspettiamo solo i permessi La replica Della società biancorossa La cronaca Amarotta scorreva Un fiume di coca Scaccomato a una banda Che spacciava da Rimini A Perugia Quattro arresti Nove persone denunciate Di spalla Quale campagna di ascolto Sul degrado Basta farsi una passeggiata E la nota Di Alessandro Bettini Scavolini entra Nell'elite Di marchi storici Italiani E il riconoscimento Per una delle principali Aziende Marchi Imprese Del pesarese Il caso Silvia Romano Sequestrata in Kenya Chiesta l'archiviazione Per la Onlus Fanese Accoglie al Metauro La protezione civile Nel caos Tra dimissioni E querele E poi a Fano Il conto alla rovescia Il carnevale Aggiunge il carro Della rabita Sempre a Fano La traviata Transgender Fa il pieno Di applausi Queste le notizie Dell'edizione In digitale Del resto Del carlino Oltre che Del corriere Adriatico Per approfondire Per completare La rassegna Stampa locale Ora torniamo Invece Sull'home page Di Repubblica Per una veloce Carrellata Di titoli Con il Pentagono Che parla Di un pallone Spia cinese Avvistato Nello spazio aereo Degli Stati Uniti Anche il Canada Ne sospetta Uno E il testimone Che racconta In cielo Per oltre mezz'ora La sfida Sul 41 bis Il caso cospito Meloni Fa scudo Del mastro Nordio Nessun segreto Violato Dice il ministro Autonomia Differenziata Delle regioni Passato Il disegno Di legge Calderoli Nel consiglio Dei ministri Dalla scuola All'energia I rischi Di un'Italia A doppia Un gioco Dell'oca Tra regioni Camere E altri consigli Dei ministri Forse ci vorranno Anni Per la riforma E poi La guerra russo-Ucraina Con i media Che parlano Di un piano di pace Degli Stati Uniti Con il 20% Dell'Ucraina Alla Russia Ma Washington Smentisce 200.000 Sarebbero i soldati russi Vittime del conflitto Intanto a Stalingrado Ottant'anni dopo Si rievoca Il nemico tedesco Una commemorazione Che rievoca Di fatto Anche il periodo Di Stalin E poi il PD Muccino Schlein Bottura Bonaccini Nel PD Scendono in campo I testimonial Verso le primarie Per il nuovo segretario L'euroscandalo Il Qatargate Via l'immunità Cozzolino E Tarabella Ora Rischiano L'arresto Capitolo migranti Una donna incinta Tra gli otto cadaveri Sul barcone Soccorso In acque maltesi Il caso Sara Pedri Quelle tre mail Inviate da un'infermiera All'ufficio mobbing Dell'Ausl A Napoli Non dorme Gli faccio togliere il vizio Sono i messaggi shock Della madre Che uccise il figlio In spiaggia E poi Sull'isola d'Elba Il mistero Dell'aiuto cuoco milanese Trovato morto A Porto Ferraio La pista dell'omicidio Fermato Un ragazzo Di 24 anni Corriere della Sera Il pallone Aerostatico Spia cinese Sugli Stati Uniti Ha sorvolato una base Con missili nucleari Anche questo È il titolo Appunto Con cui apre La home page Del Corriere della Sera Ancora più in alto C'è da leggere La sapienza Facoltà di lettere Occupata In solidarietà A cospito La deputata Di Fratelli d'Italia Noa Rosa Chemical A Sanremo Basta Gender Fluid Difendiamo I nostri bimbi Sono state le parole Della deputata Ieri Alla Camera I carabinieri Con martello pneumatico Nel covo di Matteo Messina Denaro E infine Bolsonaro Sono italiano Potrei avere la cittadinanza Parla l'ex presidente Del Brasile Battuto alle ultime elezioni Da Lula Sì del Consiglio dei Ministri All'autonomia Quali le competenze Che possono andare Alle regioni E cosa sono I LEP Ovvero I livelli essenziali Delle prestazioni L'opposizione Va all'attacco La Meloni Però parla Di Italia Coesa Zaia L'intervista Al governatore Del Veneto Inizia La rivoluzione Il Sud Festeggi Perché sarà Un'equa Distribuzione Del Benessere Se i sindaci Le regioni Le regioni del sud Sono contrari Chi esce Dalla comfort zone Spiega Zaia Fatica Sempre Pistole Tre banditi In azione Robi Facchinetti Rapinato Nella sua villa Via I gioielli Al cantante De Pus Super ospite A Sanremo Aggredito Nella sua villa Vicino allo stadio La figlia Giulia Fatto molto grave È Un momento Difficile Cospito Nordio Il ministro Non erano Carte segrete L'anarchico Ai boss Fuori La devono pagare Il detenuto Sottoposto Al 41 bis Parla Della diffusione E dei dialoghi Mi hanno teso Una trappola Dice E poi La vita Da fuorisede Di Donzelli Del Mastro I coinquilini Di Italia Strigliati Da Meloni Due deputati Di Fratelli Di Italia Sono stati Ribattezzati Due coinquilini Dell'Italia Stesso appartamento Stili di vita Molto diversi Ci fermiamo Ma le notizie Le trovate sempre Su Etv Mark Mettiamo il lavoro Al centro del paese Mettiamo te Al centro di Confartigianato Sei alla ricerca Di un punto di riferimento Affidabile Per la tua impresa Scegli Confartigianato Con 19 sedi Ad Ancona E 14 a Pesaro Un mondo di opportunità Per te Rappresentanza Tutela delle micro E piccole imprese Sostegno All'avvio D'impresa Assistenza Credito E bandi Formazione Manageriale Consulenza Fiscale Lavoro Welfare Consulenza Su energia E gas Convenzioni E vantaggi Esclusivi Ti aiutiamo A realizzare Il tuo progetto Di impresa Chiamaci All'822 9310 Confartigianato Ancona Pesaro Urvino Il valore Di essere re Di essere re